Allora carissimi amici collegati sulle frequenze di questa nuova puntata di Adamo e Regno della Rina Volontà, benvenuti a tutti, ben ritrovati e proseguiamo questa sera con l'aiuto del Signore il nostro itinerario, il nostro cammino, alla scoperta della vita nella Divina Volontà che faceva il nostro caro padre Adamo. Volevo iniziare subito con una precisazione che mi grazie ad un caro amico sacerdote che ha ascoltato la mia precedente catechesi ed ha ritrovato assai opportunamente un brano che parla della scienza infusa concessa a chi vive nella Divina Volontà. Se vi ricordate la volta scorsa l'ultimo brano che abbiamo analizzato insieme era la scienza infusa presente in Adamo. Questo dono sopranaturale del nostro padre Adamo è un fatto noto nella dottrina comune della Santa Chiesa, insegnato da tutti quanti i teologi di questo nome, tra cui San Tommaso d'Aquino. Abbiamo visto la volta scorsa in che cosa esattamente consisteva e poi io mi chiedevo, insomma, nel Regno della Divina Volontà se un'anima riesce ad entrare bene in questo Regno è lecito sperare, sapete questa è un'espressione che si usa oggi, che si possa nuovamente conseguire anche questo dono e speriamo, però vediamo. Ora vi leggo testualmente, ecco, a completamento, insomma, perché ne parla Gesù di questo, nel volume 30, il 22 maggio del 1932, quindi ci sono delle buone notizie, ottime notizie in merito. Leggo il testo prima o poi di introdurci a quelli di questa sera, quindi consideriamo questa questa introduzione un po' come un appendice della puntata precedente. Leggo il testo del 30 maggio del, scusate, del 22 maggio del 1932 dal volume 30. Ora tu devi sapere che chi vive nella Divina Volontà riacquisterà, fra tante prelogative, il dono della scienza infuse. Dono che le sarà di guida per conoscere il nostro essere divino, uno. Quindi qui Gesù spiega cosa sarà possibile fare attraverso questo dono. Le sarà di guida per conoscere il nostro essere divino, uno. Le faciliterà lo svolgimento del Regno del Fiat divino nell'anima sua. Lo svolgimento del Regno del Fiat divino nell'anima sua. Tre. Le sarà di guida nell'ordine delle cose naturali. Le sarà di guida nell'ordine delle cose naturali, perché la scienza, come virtù intellettuale insegnava San Tommaso, a differenza della sapienza, che è la conoscenza corretta delle cose soprannaturali, la scienza è invece ordinata alla retta conoscenza delle cose naturali, d'accordo? Delle scienze umane cosiddette. Sarà come la mano che la guida in tutto, quattro, e farà conoscere la vita valpitante del voler divino in tutte le cose create e il bene che continuamente le ponce. La capite? Quando noi facciamo come dobbiamo fare, io in questi giorni dove sto concedendo, per grazia di Dio, il Signore mi sta concedendo un pochino di riposo del corpo oltre che dell'anima, sto in mezzo ad ambienti molto belli, naturali, e qui è in un certo senso facile, però neanche troppo, perché io passeggiando, guardando tante cose, provando a fare qualche giro, mi chiedevo, spero di sì, però è una domanda che sorge, ma quanta gente, io so, in posti che sono abbastanza frequentati, quanta gente vedendo tutte quante queste meraviglie che sono sotto i nostri occhi, avrà almeno detto grazie a Dio, non dico tanto, dico ringraziamo Dio, e mica ce lo so io, spero tante, sapete voi, noi esseri umani abbiamo sempre questa possibilità di pensare sempre in bene, dobbiamo pensare sempre in bene, anche quando questo comportasse delle mie illusioni, speriamo che siano in tanti, però magari a farci proprio dei giri, quindi a guardare, a riconoscere i vari ti amo di Dio, anche i vari modi con cui le cose create ci parlano di lui, che sono una varietà impressionante, basta che uno guarda nel Cesi, si guarda in giro, e quando sta a contatto col Fiat Creante sono veramente tante, però non sempre siamo in grado, mi è capitato questa sera, stavo rileggendo la seconda ora del Pio Pellegrinaggio, nella Divina Volontà, bellissimo, e parlava del giro da fare nel mare e nel vento, e dice, sicuramente il mare non ti amo di Dio, però che cosa mi comunica in particolare dell'immensità che Dio è la creatura amare, questo noi adesso dobbiamo farlo, io sinceramente me l'ho scordato, se ho già parlato della Divina Volontà, a pensare alla Divina Volontà, dico, il mare, quando mi è capitato un mesetto fa di farmi una passeggiatina al mare, dico, bello il mare, il mare, certamente la sua immensità parla di Dio, ma che c'ha? Ah, è lì, Pellegrinaggio, la Divina Volontà diceva che il mare è idea, ha come immagine questo suo continuo muoversi il mare, dell'eterno moto di Dio che dà praticamente incessantemente la vita e l'essere a tutte le cose, quindi questa è un'operazione molto profonda questa qui, è proprio caratterizzante la vita della Divina Volontà, però mentre adesso noi lo facciamo con fatica, d'accordo, perché non è così immediato, cioè se qualcuno c'è il figlio diretto con lo Spirito Santo, bevato a lui, insomma, no, io no, ecco, quindi c'è bisogno di un lavorio interiore, c'è bisogno di fare attenzione e di sforzarsi, no, delle volte penso che, non so se sono l'unico, uno resta pure un po' ammortificato, perché vabbè, gli diamo se mettono un giudato per tutto, no, poi ci diamo, metto il mio diamo perché è questa cosa che mi ricorda, mi fa pensare, e uno rimane un po', che rimane un po' in imbarazzo nei confronti del Padre Eterno, no, perché non è in grado di cogliere subito, penso che lui si faccia un sorriso, insomma, no, allora, con la scienza infusa, invece, immediatamente, capito, tu coglierai quel ti amo che Dio ti dice attraverso quella cosa creata, sapete, farà conoscere la vita palpitante del volere divino in tutte le cose create ed il bene che continuamente le vorge. Quindi vi da fare attenzione, come spesso accade, che quando Dio fa dei doni soprannaturali, in realtà questi doni soprannaturali portano a assoluta perfezione, perfezione divina, un lavoro molto imperfetto e molto laborioso che tu devi aver cominciato a fare naturalmente, se non niente dono, anche se è un dono. Se questo dono fu dato ad Amo, continua la lettura, nel principio della sua creazione, insieme con la nostra divina volontà. Possedeva il dono della scienza infusa, in modo che conosceva con chiarezza, altra cosa, le nostre verità divine. Altra cosa molto importante, conoscere con chiarezza le verità divine. Questo non è ancora la sapienza, perché conoscere le verità non vuol dire penetrarle a fondo, comprenderne in essi le conseguenze, le implicanze, questo è proprio del dono della sapienza. Ma conoscere già bene le verità divine, bene, non quelle che noi pensiamo essere tali, o quelle che noi ci accomodiamo, ma le verità divine in se stesse, tanta roba, è una cosa molto bella. Non solo, ma tutte le virtù benefiche, prosegua, che possedevano tutte le cose create a bene della creatura. faccio un esempio, no? Ci sono tante erbe, e lo sanno per esempio in alcuni monasteri, in alcune cose, che sono, che te fanno bene, ci sono delle cose, se uno conoscesse bene dei segreti in natura, potrebbe per esempio fare a meno di un sacco di medicine, ma ora da tante cose che io per esempio sono venuto a sapere casualmente di alcune di queste, pochissime, che poi non sono pure scordate, conoscendo qualche santo monastero, qualche santo posto che sono custodite alcune cose, ma non sa quasi nessuno però. Ci risparmieremo un sacco di medicine, perché in natura, nostro signore, ha già messo tante cose buone, d'accordo, e chi le conosce però tutte quante? Ci sarà sicuramente qualche esperto, qualche scienziato, insomma, no? È diverso averci che ce lo sa e basta, insomma, no? Quindi conosciamo anche le santo monasterie, non solo, ma tutte le virtù benediche che possedevano tutte le cose create bene delle creature, dalla cosa più grande fino al più piccolo filo d'erba, fino al più piccolo filo d'erba. Ora, e così ci introduciamo anche a quello che ascolteremo questa sera, queste tragedie perpetue. Ora, come respinse la nostra divina volontà col fare la sua, qui al nord Italia dicono te salue, d'accordo? Ecco, io adesso sono nel nord Italia, quindi lasciamo uno. Ora, come respinse la nostra divina volontà col fare la sua, il nostro Fiat ritirò la sua vita e il dono di cui era stato portatore, quindi rimase all'oscuro, senza la vera e pura luce della conoscenza di tutte le cose. Guai. Onde? Dice, siccome questo l'ha perso perdendo la divina volontà, ecco perché lo pensavo, dico, ma se torna la divina volontà, che succede? Eh, col tornare la vita della mia volontà nella creatura, ritornerà il dono della scienza diffusa. Come tante altre cose bellissime, ne ho citate alcune nelle catechesi, nel ciclo di catechesi sistematico sulla divina volontà, che sono promesse, tipo l'immunità dalle malattie. Gesù ne parla, d'accordo? Di questa cosa qua. Gesù ne parla. Tipo, sì, la morte certamente non possiamo, dalla quale nulla uomo può scampare, questa è una conseguenza irreversibile della colpa d'origine, però bisogna vedere come si muore, bisogna vedere che succede subito dopo la morte, bisogna anche vedere che fine fa il nostro corpo, se diventa veramente cibo per i vermi, oppure se quella cosa che ordinariamente, miracolosamente accade adesso, ci sono dei corpi che sono incorrotti, basta andare a Roma e vedere il corpo di San Giovanni XXIII, adesso una volta bisogna andare, tra i più famosi bisogna andare a Bologna, a vedere Santa Caterina di Bologna, o a Neverra, a vedere Santa Bernardetta, ma adesso basta andare a Roma, dentro la Basilica di San Pietro, c'è San Giovanni XXIII, un bel esposto sotto l'altare alla vista di tutti, col corpo incorrotto, quindi adesso è un'eccezione, dobbiamo aspettarci che sarà la regola, per chi viene di una volontà, a quanto Gesù ha fermato gli iscritti, anche questo è lecito aspettarselo, d'accordo? è lecito aspettarsi, non è follia, non è assurdità. Bene, chiusa questa parentesi introduttore, o meglio questa postilla della volontà precedente, dato che la volta scorsa non l'abbiamo chiusa, perché ci mancava un importantissimo capitoletto, intanto oggi facciamo un'altra cosa, oggi non faccio problemi, intanto cominciamo dal capitoletto che ci mancava, perché poi sarebbero già pronti altri due più piccoli, però vediamo dove appunto ci porta la divina volontà. Questo capitoletto è abbastanza importante, anche perché è molto esteso, cioè negli iscritti, Adamo ha citato tantissimo, insomma questo libretto qua, io ce l'ho in versione digitale, ce l'ho in pdf, pdf sono 86 pagine, pensate che dopo queste prime quattro puntate stiamo a pagina quattro, stiamo a pagina no, la quinta facciata, stiamo a pagina quindici, e ne ho saltate però alcune, però ci sono delle lezioni estese dove Gesù parla in maniera abbastanza estesa di Adamo e focalizza alcuni aspetti in maniera ben precisa. Altri sono semplicemente dei riferimenti magari anpassan in qualche discorso più ampio, però anche alcuni di questi piccolissimi riferimenti, per quanto piccolissimi a volte sono assai significativi, ecco per cui diciamo che il cammino che ci aspetta è abbastanza lunghetto, quindi senza perdere troppo tempo, andiamo adesso al volume 18, ecco il volume 18 che abbiamo affrontato nella scorsa puntata, e andiamo a vedere il 28 gennaio del 1926. Allora, questa lezione trae origine da una domanda che si faceva Luisa, voi sapete che le sane domande noi possiamo sempre farle al nostro Signore, basta che non ci mettiamo in testa che ci debba forza rispondere subito, è quello che diciamo noi, però pregando possiamo porci tante cose, anche porre tante cose a Gesù, non per dubitare, ma una propositività costruttiva, anche una interloquela costruttiva aiuta, d'accordo, senza dubbio la crescita, ecco, non è che si tratta di fare i processi al nostro Signore o chiedere a Dio spiegazioni, però uno. Allora Luisa dice queste cose, comincio la lettura. Stavo pensando al santo volere e pensavo tra me, ma come può essere che Adamo, dopo il peccato, avendo rotto la sua volontà con quella di Dio, perdette la forza, il dominio, e i suoi atti non erano così accetti a Dio da formargli la sua delizia, mentre lo stesso Adamo, prima di peccare aveva fatto i suoi atti verso Dio, li aveva imparati, quindi quello che sta dicendo è, comunque lui sapeva cosa erano gli atti nella divina volontà, era fatti, dopo il peccato che è diventato nebbere, si è scordato da tutto, come mai che non li faceva più? E perché ripetendoli dopo non suonavano con lo stesso suono, non più contenevano la pienezza dell'amore divino e della completa gloria di Dio? Si fa questa domanda, domanda lecita, una buona domanda, e il nostro Signore risponde, ora mentre ciò pensavo il mio amabile Gesù si è mosso nel mio interno e con una luce che mi mandava mi ha detto, voi sapete adesso qui non c'è tempo, però alla fine del primo volume, se non ricordo male, Luisa spiega tutti i modi con cui Gesù gli parlava, o si manifestava a lei, quelli bisogna leggerseli, adesso per andare a farci una lezione un po', muovendosi nell'interno, attraverso una visione o attraverso altre particolarissime modalità, bisogna andare a leggere, qui praticamente è fatta attraverso una luce interiore, che ha detta tra l'altro dei maestri di spirito, questa luce interiore è apparentemente, sembrerebbe una modalità inferiore, non gli è apparso Gesù a dirgli questa cosa, ma in realtà, che ce ne sembra a noi che siamo molto materiali e molto umani anche su questo, è una forma di comunicazione superiore di Dio. Non andate a leggere San Giovanni della Croce come spiega bene questo particolare, no? Allora, alla luce di questa luce, Luisa scrive, figlia mia, prima di tutto, Adamo, prima che si sottraesse dalla mia volontà, era mio figlio, era mio figlio, aveva per centro della sua vita e di tutti i suoi atti la mia volontà, quindi possedevo una forza, un dominio, un'attrattiva tutta divina. Un'attrattiva tutta divina, apro una piccolissima parentesi, no? Può fare i cefetti una mail, io capisco insomma che, cioè, Adamo possedevo un'attrattiva divina, d'accordo? Divina. Perché? Perché aveva il dono della volontà divina, quindi il suo modo di vivere, pur essendo un uomo, una creatura, era divino, i suoi atti erano divini, d'accordo? San Luigi Maria Monforte, che non sapeva queste cose, già chiamava la Madonna la Divina Maria, dopo che uno sa queste cose, cioè, certamente che la Madonna deve essere chiamata in questo modo, ma non perché è una Dea, non si dice la Dea Maria, d'accordo? Perché la Madonna non è una Dea, ma è una creatura perfettamente divinizzata, d'accordo? Perché quel dono non l'ha perso neanche un istante, quindi non c'è niente di puramente umano in Maria, inteso come sconnesso, scollegato, sganciato dalla Divina volontà, non c'è, d'accordo? Anche se la sua umanità è un'umanità verissima, ma la stessa cosa, di più, di più chiaramente, si dice di Gesù, e di Gesù però non si dice solitamente che è divino, ma Gesù è Dio, perché l'unione che c'è tra la sua volontà umana e quella divina avviene nell'ipostasi della seconda persona dell'antissima divinità attraverso l'incarnazione, d'accordo? Come dice San Tommaso da Quino, la grazia dell'unione ipostatica è assolutamente inconcepibile a mente umana e superiore a qualunque cosa immaginabile che noi possiamo rappresentarci in ordine ai possibili, diciamo così, ai possibili interscambi e comunicazioni tra l'umano e il divino, ok? Bene. Quindi questa cosa Adamo ce l'aveva, non è che non ce l'aveva, attenzione, il suo respiro, il palpito suo, cioè il respiro è questo qua, cioè d'accordo, davano di divino, capite? Cioè questa è tanta roba, il palpito, il palpito, se uno si mette la mano sul petto e sente tum 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 tum, il palpito che dava di divino, d'accordo? I suoi atti davano tutti di divino, tutto il suo essere emanava un profumo celeste che tutti ci attirava a sé, sicché ci sentivamo feriti da tutte le parti di questo figlio, capito? Se respirava, cioè, capite? Respirare è uno che merito ha, nessun merito, ma se tu stai fuso con la divina volontà, il tuo respiro sa di divino, questo è quello che Gesù ci rivela. Se parlava, se operava le cose più innocenti, indifferenti e naturali, le cose più innocenti, indifferenti e naturali, non lo so, tipo prendere un oggetto, farsi una camminata, girare la testa, dare uno sguardo innocente a una creatura, d'accordo? Erano ferite d'amore per noi. Quando noi pensiamo a queste cose, pensiamo immediatamente che per la Madonna questa è stata musica perpetua, capito? Perpetua. Quindi, cioè, che da quando la Madonna è scesa sulla terra, d'accordo? E' stata mandata sulla terra, nostro Signore ha cominciato ad essere ininterrottamente ferito d'amore, da lei. E noi divertendoci con lui, questa è una delle cose, sento queste cose qua, sapete che Dio si diverte? Dio si diverte. Divertirsi non è peccato, bisogna vedere come ti diverti e con che cosa ti diverti. Dio si diverte, sta scritto qua. Noi divertendoci con lui, Dio si divertiva, si divertiva a giocare con Adamo, a giocare, capite, a fare questi giochi, questi giochi d'amore. E lo colmavamo sempre di più dei nostri beni, perché tutto ciò che faceva usciva da un solo punto, quale era la nostra volontà. Perciò tutto ci piaceva e non trovavamo nulla in che dispiacerci. quando leggiamo queste cose pensiamo subito alla nuova Eva, d'accordo? E pensiamo anche subito alla Santissima Umanità di Gesù, è stata la stessa identica cosa questa qui, d'accordo? Salvo, ripetiamo, che Gesù è Dio per natura, d'accordo? Quindi che l'unione della sua volontà umana con quella divina, attenzione, unione che è stata esercitata in ogni istante da Gesù. Pensiate che questi scritti giustifichino come qualche folle, l'ho già detto in qualche circostanza, andava cianciando in giro il monotelismo. Questi scritti sono l'esaltazione della doppia volontà di Gesù, l'umana che aveva in quanto uomo e la divina che aveva in quanto figlio di Dio. E la grandezza di tutto quello che ha fatto Gesù è stata questa assoluta, ininterrotta e continua uniformazione della sua volontà umana, quella divina, costante e continua, d'accordo? Perché lui è stato, come dire, il principe, il re del regno della divina volontà in quanto uomo, d'accordo? Imperatore, il re. Capite? E la divina volontà, a quanto ci insegnano questi scritti, è dono che Dio aveva fatto contestualmente alla creazione, all'uomo, d'accordo? È un dono per l'uomo. Bene. Scusa queste piccole parentesi. Divertendoci con lui, quindi per cui nulla poteva dispiacersi. Ora, dopo il peccato, attenzione, Adamo scese dallo stato di figlio, c'è stata una degradazione e si ridusse allo stato di servo. Sembra sentire, penso che tutti quanti ce ne siamo accorti, ecchi della parabola del figlio del prodigo. Quando il figlio del prodigo torna, dice, ah, trattami come l'ultimo dei tuoi garzoni, perché quello lo capiva che si era andato a degradare, no? Sembra anche sentire un eco della parabola del buon samaritano, la discesa da Gerusalemme a Gerico, no? Il padre della Chiesa, lo dico sempre quando ci sta quel Vangelo durante le messe e le liturgie domenicali, di chi è quell'uomo che scende da Gerusalemme a Gerico? Adamo, è l'uomo. La degradazione post-peccato originale. E chi è il buon samaritano di Gesù? E chi è la locanda dove lo porta? La Chiesa. Questa è la lettura molto, molto, molto diffusa in età patristica, no? Allora, dallo stato di figlio si ridusse allo stato di servo, ai noi. E come la ruppe con la volontà suprema, così uscì da lui la forza divina, il dominio, l'attrattivo, il profumo celeste. Perciò gli atti suoi non davano più di divino, non c'era più questa cosa. Il suo essere, ma si riempì di una sensazione umana, per cui facendogli perdere l'attrattiva, non più ci sentivamo feriti, anzi, questo è un tema che ricorrerà spesso in questi prossimi capitoletti, ci mettevano a distanza lui da noi e noi da lui. Dice nulla che lui ripetesse gli stessi atti che faceva prima di peccare, come di fatti li faceva. Ma sai tu che cosa sono gli atti della creatura senza la pienezza della nostra volontà? Sono come quei cibi senza condimenti e senza sostanza, che invece di gustare, disgustano il palato umano. E così disgustano il palato divino. Sono come quei frutti non maturi, che non hanno né dolcezza né sapore, sono come quei fiori senza profumo, sono come, e tutte queste immagini, quei vasi pieni sì, ma di roba vecchia, fragili e stracciati. Sono bellissime queste immagini, no? Chi fa qualche dieta, oppure chi sta, che ha problemi, che non può mangiare il sale, capisce benissimo queste cose qui, no? La dieta oltre che uno strumento per preservare la salute è anche un grande strumento di mortificazione perché fa tutto schifo, fa insomma, se uno fa la dieta a mangi tutte le cose scondite, insomma, ecco, quindi non è una cosa divertente, no? Se uno fa una bella magnata, cioè, capite? Ecco, certamente queste sono ovviamente immagini umane, no? Noi dobbiamo servirci, e Gesù lo sa, e quindi ce le offro queste immagini umane, anche per far comprendere un po' quelle divine, come diceva San Paolo, in attesa di diventare spirituali, abbiamo bisogno di esempi accessibili, diciamo, alla nostra piccolezza, no? Quindi, capite? Indirettamente, qui Gesù sta postulando la differenza che c'è tra un atto umano, anche buono, un atto divino. E qui rimando anche alle trascendenze, anche alle trascendenze fatte in precedenza, no? Quella famosa frase già detta da San Luigi Maria Grignon da Monforto, che è un punto d'ago messo dalla Madonna, vale più del martirio subito da San Lorenzo, che tra poco celebreremo, non ci manca tantissimo. Insomma, mentre se uno sulla graticola è essere rosolato vivo, insomma, non è una cosa tanto, tanto divertente, eh? Oppure, insomma, tanti martiri che sono stati sbranati sui leoni, insomma, intanto quando sono i documentari di che stirete la foresta, che sbranano tutti, insomma, che è una cosa molto, molto allegra. Dicevo, un punto d'ago è un atto più grande di questo? Si è fatto una divina volontà? Certamente sì, certamente sì, è così, cioè, questo bisogna, bisogna comprenderlo, d'accordo? Perché quando un atto attraverso l'unione con la divina volontà diventa divino, una cosa divina ha una forza, una virtù e un valore oggettivamente infinito. Per cui un atto eroico umano è un atto, umanamente parlando, eroico, ma ha un valore finito, non infinito. Non infinito. E Dio non si deliziava più di quegli atti lì. Perché? Perché non avevano più il condimento divino. Erano atti di un uomo. Però qui adesso, a mio avviso, viene anche un pochino in soccorso la nostra esperienza. Perché se abbiamo già conosciuto, io grazie a Dio o a qualche persona di questo genere l'ho conosciuta, no? In conto una persona, anche umanamente parlando, buona. Una persona umanamente parlando buona è una persona gradevole, ma non tantissimo. Ma se tu trovi una persona che è veramente virtuosa, d'accordo? Quindi che eccelle specialmente nelle virtù più belle, quelle che rendono la vita più bella anche al prossimo, tipo la carità, tipo la dolcezza, tipo queste cose qui, tu la vedi la differenza. Io vedo la differenza, insomma. Si vede la differenza. Una cosa umana, per quanto buona, si è sempre molto, molto imperfetta, molto macchiata di tante cose. Le persone ti aspettano il contraccambio, cioè te fanno una carezza e se ne aspettano che tu gliene dai due, cioè tutte queste cose qua, che abbruttiscono molto, capite? Già basta una persona che sta un po' più attrezzata nella santità, che ci mette un abisso. Figuriamoci quando si entra in questa santità, questo ci fa capire un pochino qualcosina, ecco, di quello che Gesù spiega, no? Quindi perché nostro Signore si sente così tanto felice e compiaciuto quando vede un atto divino e invece gli atti umani, ma che te possono fare? Cioè non ci fanno niente a noi, figuriamoci quello che ci fanno, se ci fanno poco a noi, figuriamoci quello che ci fanno al Padre Eterno, capite? Che ci possono fare al Padre Eterno, che è abituato alla felicità propria della divinità? Mi fanno niente o non mi fanno, no? Ecco, allora così andiamo, prima di peccare, aspetta, finisco il periodo qui, tutto ciò, quindi tutte quelle cose che ha detto prima, tutti quegli esempi che ha fatto prima, può servire ad una stretta necessità dell'uomo e anche ad un'ombra, ad una sfumatura della gloria di Dio, ma non alla felicità e a tutto il benessere della creatura e alla pienezza della gloria di Dio. Questo, ripeto, in parte ne possiamo fare anche esperienza noi. Ora invece con quale gusto non si mangia un cibo ben condito e sostanzioso? E come rafforza tutta la persona? Il solo profumo del condimento stuzzica l'appetito e l'avidità di mangiarlo. Giusto, no? Siamo tutti d'accordo su questo qui. Siamo tutti ben italiani su questo qui, ecco, mi raccomando, italiani su questo insomma non prendono lezioni, almeno su questo da nessuno, no? Così Adamo, prima di peccare, condiva tutti i suoi atti con la sostanza della nostra volontà e quindi guardate che bella immagine, stuzzicava l'appetito del nostro amore, a prendere tutti i suoi atti come il cibo più gradito per noi e noi di ricambio gli davamo il nostro cibo prelibato della nostra volontà. Bellissimo. Stuzzicava l'appetito del nostro amore. Bellissimo. Cioè, un riflesso di quello che... Dio si divertiva. Stava bene, d'accordo? Stava contento pure lui con Adamo. Cioè, questo è... Soltanto... Ammesso che ogni volta che leggo queste cose, insomma, mi lasciano molto... Molto, insomma, molto positivamente, diciamo, esterrefatto, no? Ma dopo il peccato poveretto, e qui c'è un poveretto di compassione, no? Ecco, di misericordia, meglio ancora, no? Per detto è la via diritta di comunicazione col suo creatore. Non regnava più in lui il puro amore. L'amore fu diviso dal timore, dalla paura. Cosa ci dice lì poi della Genesi? Che succede dopo il peccato? Adamo comincia ad avere paura di Dio. Adamo, dove sei? Ho dito il tuo passo nel giardino e ho avuto paura. Paura. Attenzione a un'altra... Vedi? Cioè, qui poi quando si entra... Quando uno ha paura di Dio, di Dio non si deve avere mai paura. Di Dio non si deve avere paura. Dio non fa paura. Non fa affatto paura. Gesù, figuriamoci, se il papà Gesù e la Madonna che sono, come dire, l'immagine, come dire, più bella dell'amore di Dio, perché è veramente trasformato completamente in amore e misericordia, per certi aspetti è ancora più nella Madonna che nello stesso Gesù, perché la Madonna è donna. Quindi come fa un avere paura? L'avere paura vuol dire l'essersi allontanati, l'essersi distanziati. Cioè, è un qualche cosa che nasce non da un dato oggettivo. Dio fa paura, ma da un dato soggettivo in cui tu sei precipitato. D'accordo? Per esempio, anche noi facciamo un'applicazione ogni tanto, qui stiamo facendo un pochino, un po' di catechesi, diciamo, caliamo un po' nella vita comune. C'è paura di confessarsi. Paura di cosa? Paura di confessarti. Di confessarti. Tu dovresti avere paura di fare qualche peccato, ma non paura perché facendo qualche peccato devi mettere un mare di guai, per creare una distanza da te. Ma c'è paura di confessarti. Tu pensi che quando ti vai a confessare vai a dire a Dio qualcosa che lui non sa? Dio già lo sa tutto quello che hai fatto, lo sa benissimo. Che tu lo vada a dire in confessione è come si deve dire, quindi lo rincaura, umiliandoti e pentito, Dio non può che esserne contento. Quindi quale paura dovresti avere? E se hai paura del confessore, questo è un altro argomento, d'accordo? È semplicemente figlia del tuo amor proprio, della tua superbia, che non vuoi essere rimproverato, non vuoi essere mortificato, perché comunque sia, se hai fatta grossa, potresti che il confessore te fai una bella ralanzina e te la tieni, te la meriti, te la tieni, che problema, è finito il discorso. Tanto comunque si conclude con la soluzione. Paura di cosa? Paura di cosa? Cioè non c'è niente di più stupido al mondo che avere paura di Dio. Paura è proprio una passione demoniaca per antonomasia, è il demonio che fa bau bau, che vuole impaurire le persone, vuole spaventarle, vuole mettergli le preoccupazioni, vuole fargli che lui fa il gradasso, che lui sfascia tutto, lui distrugge la chiesa, lui distrugge le anime, fa quello che vuole, sembra che comanda lui, ma quando mai? Capite? I salmi dicono se dovessi camminare in una valle oscura non ci avrei paura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Paura di Dio. Paura di Dio la si ha quando si è lontani da lui. Attenzione, noi siamo lontani da lui, non lui da noi. Siamo noi a creare le distanze. Familiarizziamoci con questo termine che tornerà nei prossimi capitoletti, no? Siamo noi che ci mettiamo a distanza, capite? E anche quando creiamo le distanze interpersonali, uh, qui sarebbe molto da meditare, d'accordo? Ecco, sulle distanze. Va bene, riprendiamo e concludiamo la lettura. Quindi perdette la via, ma dopo il peccato, poveretto, perdette la via diritta di comunicazione col suo creatore. Non regnava più in lui il puro amore. L'amore fu diviso dal timore, dalla paura e non avendo più l'assoluto dominio della suprema volontà, i suoi atti di prima non avevano più quel valore, fatti dopo il peccato. Questo tra l'altro, sotto certi aspetti morali, lo insegna anche la Chiesa. Un conto è un atto, a prescindere dal dono della divina volontà, un conto è un atto fatto da un'anima in grazia che sta in grazia di Dio e che c'ha la grazia santificante, perché quell'atto, oltre che essere in se stesso buono, è anche meritorio davanti a Dio, perché è animato dalla carità. Questa è questa teologia dogmatica, è stato trattato da grazie, quindi non sono teorie queste qui. Un conto è un atto buono che fa una persona che non sta in grazia, tutti possono fare un atto buono. Lo vediamo, penso che non ci dobbiamo scandalizzare, anche le persone che sono lontane da Dio, miscredenti o a volte anche nemiche, fanno delle cose buone, fanno degli atti buoni, fanno delle azioni buone, fanno delle buone iniziative, ma quelli sono degli atti meramente umani, che non con più ringrazia di Dio, questo lo spiega San Tommaso da Quino, non meritano il paradiso, però Dio contemplandoli e vedendo comunque il bene oggettivo fatto da quegli atti, San Tommaso e li ricompensa, come li ricompensa? Non potendoli ricompensare con il paradiso, perché non sono atti fatti in grazia di Dio e quindi animati dalla carità, li ricompensa con ricompense temporali. La salute, i soldi, il benessere, l'allimpimento della soddisfazione dei tuoi desideri, quello che tuo figlio si sposa, quello che tuo figlio trova a lavoro, questo, questo, e questo, ma anche quelli là. Quindi per dire, già un bene fatto senza la grazia di Dio ha un valore essenzialmente differente agli occhi di Dio. Questo è, capite, lasciamo perdere Luisa, perché io voglio, la mia attenzione, proprio come, perdonatemi, esperto in dogmatica, è quella di mostrare, altri santi sacerdoti lo stanno facendo, lo fanno molto bene anche i collegamenti con la Sagra Scrittura, come quello che c'è scritto qui dentro, è perfettamente in linea con il Magistero della Chiesa e con la sana dogmatica. D'accordo? Quindi se un atto non fatto in grazia di Dio, stando in grazia di Dio, ha un valore essenzialmente diverso ai suoi occhi, d'accordo? E una forza impetratoria e meritoria differente, figuriamoci un atto fatto nella divina volontà e un atto fatto non nella divina volontà. C'è un abisso, c'è. Ok? Questo è quello che sta spiegando. I suoi atti di prima non avevano più quel valore partito per il peccato, molto più che tutta la creazione, compreso anche l'uomo, uscì dall'eterno creatore come fonte di vita, nella quale doveva conservarsi solo con la vita della divina volontà. Tutto doveva essere basato su di essa. E questa base del divino volere doveva conservare tutte le cose belle, nobili, come erano uscite da Dio, come di fatti tutte le cose create, quali furono create, tali sono, nessuno ha perduto nulla della loro origine. Solo l'uomo perdette la vita. La base, perciò perdette la sua nobiltà, la forza, la somiglianza col suo creatore. Ma con tutto ciò la mia volontà non lasciò del tutto l'uomo e non potendo essere di più fonte di vita e base che lo sosteneva, come era prima, fonte di vita e base che lo sosteneva, perché lui stesso si era sottratto ad essa, si offrì come medicina per fare che non perisse del tutto. Ed ecco il Fiat redimente. Tutto quello che noi già sappiamo della grazia offerta a noi appunto come medici. I sacramenti, secondo una, voi sapete no, fin dai tempi dei padri della Chiesa dicevano, ciò che Gesù operava divisibile sui corpi, quindi la guarigione dei ciechi, degli zoppi, dei muti, è passato nei sacramenti. Gli stessi effetti che i suoi atti miracolosi producevano sulle infermità dei corpi lo producono nei sacramenti e sulle armi. Punto. Anche questa è dottrina dogmatica sicura, d'accordo, della Santa Chiesa Cattolica. Sicché la mia volontà è medicina e sanità è conservazione, cibo e vita è pienezza della più alta santità. A seconda che la creatura lo voglia, essa si offre. Quindi Gesù sta dicendo, non c'è stato più quel dono, il primo atto che la mia volontà ha fatto è di salvare l'uomo e di presentarsi a lui come medicina. Ricordate sempre che c'è un quadro di fondo dove Gesù spiega il piano divino, che quando l'uomo si è ridotto in questo stato, prima di poter nuovamente ricevere il dono della divina volontà, deve essere guarito. Se una persona, cioè se io, d'accordo, mi sono rotto una gamba, d'accordo, non posso andare a giocare nella juve. Non ci può andare, c'ha la gamba rotta. Te la devi ingessare, te devi fare la fisioterapia e te devi rimettere a posto. Poi andrà a giocare nella juve. Però se il dono che Dio vuole farmi è darmi il talento, facciamo così, a seconda di chi ascolta questa categoria, giocare nella juve, nella Roma, nel Napoli, nel Milan, nell'Inter, nel Torino, se no cominciamo a fare quelle questioni, perché pure sti diavoli dello sport vanno poi a complicare la vita, quindi è un esempio. Quindi se Dio ti vuole fare un dono di questo genere, se tu non stai in condizione di poterlo accogliere, prima devi guarire e poi lo puoi ricevere. Però anche la guarigione della gamba, Dio non te la fa così, te la fa in vista del dono più grande che vuole darti. Quindi questo Gesù lo spiega benissimo. Cioè il primo atto che la Divina Volontà ha fatto è stata la redenzione, ma è il primo in ordine cronologico, ma è il secondo in ordine di importanza. Perché il primo in ordine di importanza è restituirti la vita nella Divina Volontà e il secondo è la redenzione, perché il primo era quello originario. Solo che cronologicamente quello che è meno importante è dovuto venire prima, perché? Perché è funzionale al successivo. Spero di essere stato chiaro insomma in questo. Allora, abbiamo tempo rapidamente di leggere un brevissimo brano, quindi questo era un brano abbastanza sistematico, dove praticamente il senso di questo era spiegare qual era la differenza tra gli atti compiuti da Damo prima del peccato originale e dopo. Sintetizzando, tenete per presente che questa differenza abissale è dogmaticamente fondata nella dottrina cattolica della diversità oggettiva degli atti compiuti in grazia o non in grazia, davanti a Dio. Quindi se uno non volesse credere a questo, si ricordi comunque quest'altro che comunque non si tocca. Secondo passaggio, siamo sempre nel diciottesimo volume, 7 febbraio del 1926. Qui c'è una cosa molto importante. Attenzione, sarò breve e rapido, abbiamo un altro quarto d'ora scarso. Allora, leggo rapidissimamente tutto l'unfiato e poi commento. Quando una cosa insieme tra due persone, siamo al 7 febbraio del 1926, quando una cosa è insieme tra due persone, ci vuole sommo accordo. L'una non può fare senza dell'altra. Ed ecco la necessità della loro inseparabile ognuno. Delle comunicazioni continue sul dafarsi di ciò che posseggono. La mia volontà regnante nell'anima, oh come la leva soprattutto, e amando con l'amore di un Dio, sa amare tutte le cose col suo stesso amore e viene costituita possessora regina di tutto il creato. Figlia mia, in questo stato felice creai l'uomo. La mia volontà doveva supplire a tutto ciò che mancava in lui ed elevarlo alla somiglianza del suo creatore. Ed è proprio questa la mia mira su di te, farti ritornare all'origine come creiamo l'uomo. Su di te vale ovviamente e su di tutti, possiamo aggiungere tra parentesi. Perciò non voglio divisione fra me e te, né che ciò che è mio non sia tuo, ma per darti diritti voglio che riconosca ciò che è mio, affinché amando tutto e scorrendo su tutte le cose il tuo ti amo, la creazione tutta ti riconosca. Tutte le cose sentiranno in te l'ego del principio della creazione dell'uomo e felicitandosi ambiranno di farsi possedere da te. Qui ci sono due cose, a mio avviso, assai importanti da ritenere e da ricordare. Quando una cosa è insieme tra due persone ci vuole sommo accordo. L'una non può fare senza dell'altra. Allora, questo è a mio avviso, ho detto tante volte, lo ripetiamo un'altra volta ancora e lo ripeteremo sicuramente molte altre volte ancora. Allora, in questi scritti una cosa fondamentale che viene molte volte accentuata, sottolineata, evidenziata e ribadita è questa bipolarità, alterità di rapporti. C'è Dio e c'è la creatura. Chiaro che Dio è incommensurabilmente più grande di noi, sta su un'altra dimensione, ma, e questo possiamo e dobbiamo dirlo, eh, io sono una persona umana, Dio no, di una persona divina, ma una persona va sempre trattata come persona. Trattarla come persona vuol dire che tutti gli atti che deve compiere devono essere atti compiuti perché è convinta di farli, perché vuole farli nella perfetta libertà, nella perfetta volontarietà, senza nessuna costrizione, senza nessuna forzatura. Questo richiede la dignità della persona. Ora, in Dio queste cose sono già tutte, d'accordo? Dio non fa niente per forza, niente. In noi no, però. In noi no. E lo dico anche per esperienza personale, perché questa è una fatica che tutti credo che facciamo, cioè, dobbiamo metterci in testa, che Dio vuole che noi capiamo tante cose, e vuole che noi liberamente ci orientiamo a farlo, e vuole che noi impariamo a fare tutto quello che a lui è gradito volentieri, con gioia, non per forza, non per fargli in favore, perché non c'è nessuna, né sotto nessuna forma di costrizione. Se non te va, non ti va. Io, veramente, più tempo passa, più penso che se c'è una cosa che Dio non vuole fare, Dio può fare, ricordiamo sempre, che Dio potrebbe fare tutto quello che vuole. Ricordiamo la frase, ma non vuole tutto ciò che potrebbe. Io ritengo che se c'è una cosa che Dio non vuole, quindi non la vuole fare, quindi non la farà mai, perché mi sembra di capire essere assolutamente proprio contrario ai suoi volenti, è esercitare violenza sulla creatura. Tanto è vero che ci sta uno scritto, l'ho letto nei giorni scorsi, nel sesto volumo, mi sembra, dici una cosa molto semplice, voi sapete che ci sono, nel Dio, misteriosamente, sceglie le persone, distribuisce i suoi doni a Tizio, Gai e Semprone, e supponiamo che una persona, abbiamo un esempio nel Vangelo, no? Che è successo nel Vangelo? Che è successo a Giuda? Oh, Giuda era stato ordinato vescovo, capito? Giuda l'aveva vissuto tre anni con il nostro Signore, Giuda era presente al Cenacolo, Gesù gli ha lavato i piedi, l'ha ordinato vescovo come a tutti gli altri apostoli, capito? Cosa dice poi San Pietro quando vanno a nominare il successore? Dice Giuda aveva ricevuto questo, ha fatto il cretino e adesso il nostro Signore quel dono lo passa a qualcun altro, capito? Non ha tirato il collo, cioè Gesù ha cercato di fare di tutto per cercare di salvare Giuda fino alla fine, quello si è ostinato, è andato dritto, e che è successo? Che Dio ha fatto, far rovina i piani da Giuda? Assolutamente no, prende il dono di Giuda e lo dà, lo dà a Giuseppe, detto giusto o a Mattia, tirano a sorte, a Mattia, quindi quello che era Giuda è diventato Mattia, Giuda che fino ha fatto, da quello che dicono i Vangeli, che chi ne dica qualche segeta, un po' di rotelle storte, non ha fatto una bella fine, perché Gesù dice sarebbe meglio per quell'uomo che non fosse mai nato. Comunque, come sappiamo, la Chiesa, grazie a Dio, si occupa assai intelligentemente di dichiarare con certezza che è finito in paradiso, perché a noi non ce ne importa niente di andarci a prendere cura di chi all'inferno ci è andato. Sappiamo che c'è un sacco di gente, ma non ce ne importa niente di chi ci stia, certamente a quello che Gesù dice di Giuda, i sospetti sono molto fondati, per usare un ephemismo, però, capite? Giuda è stato trattato da Gesù come una persona umana, poteva evitare, certo che poteva, poteva costringerlo, Dio potrebbe costringere, diciamocelo chiaramente, Dio potrebbe costringere, cioè Dio può fare quello che vuole, capite? Cioè la volontà di Dio, ma Dio non vuole fare una cosa di questo genere, perché questa cosa non è una cosa buona, e se una cosa non è buona, Dio non la fa. Questo ce lo dobbiamo mettere in testa anche noi, su varie questioni, per esempio, state attenti, state attenti, tutti siamo andati a scuola, ma questo pure l'uomo della strada sa che Niccolò Machiavelli diceva il fine giustifica i mezzi. Io mi ricordo quando stavo a scuola, che capivo niente, speriamo di capire qualcosa di più, ma non mi ha tanto detto, quando poi il professore dice sì, sembrerebbe una cosa, però in certe condizioni, in certe situazioni, che fai? La Chiesa, questo, è sempre assolutamente condannato. Il fine non giustifica i mezzi mai, mai, o trovi un mezzo buono per raggiungere un fine buono, o, come si dice in qualche serie poliziesca, ti inventi qualcosa, ma il mezzo cattivo non lo puoi usare, ok? Non si può. Non lo fa Dio, e non lo facciamo manco noi. a me ogni tanto mi arrivano domande, mail a destra e a sinistra, ma io, che ne so, sto, la nostra coppia ha problemi, abbiamo i figli, le cose, che dobbiamo fare, ma che te devo dire, io, c'è stato il Magistero della Chiesa, chiaro, evidente, d'accordo? Paolo VI, nell'Umane Epite, ha detto che la contraccezione è sempre gravemente illecita, sia come fine, che come mezzo, punto. Per cui, se tu hai qualche problema, o usi i metodi naturali, o usi la finenza, o, non lo so, d'accordo? Cioè, che capito? Cioè, che me lo chiedi a fare? Cioè, sta finito sta, che te devo dire io? D'accordo? Non posso dire niente, cioè, un prete è l'eco del Magistero, cioè, qui non esiste, ricordate sempre, che non esiste Don Leonardo, Don Francesco, Don Nicola, Don Filiberto, d'accordo? Io questo l'ho sempre detto, cioè, quando un sacerdote, gli viene fatta una richiesta, su quello che la Chiesa dice, deve dire quello che dice la Chiesa, verificabile da chiunque, aprendo il catechismo, o i documenti di Magistero, di riferimento, punto. Perché ho tutto questo discorso? Dio non ti, cioè, inizia a caso del genere, vuoi fare un altro? Accomodate pure, perché Dio non ti forza a fare il bene, ma non ti dirà mai, fai il male, ma non ti costringerà mai a fare il bene, ci devi arrivare tu, e se non ci arrivi, in caso estremo, dopo che il nostro Signore l'ha provato di tutte, i doni e le grazie che dovranno essere fatte da te, li piglia e li passa a qualcun altro. Questo è quello che fa. A quanto ci è dato di comprendere, altro non succede, non accade, io almeno oggi non ne ho coscienza, non ne ho notizie. Attenzione, questa è la prima cosa. La seconda cosa, per darti questi diritti, voglio che tu riconosca ciò che è mio, affinché amando tutto e scorrendo su tutte le cose, il tuo ti amo, tutta la creazione ti riconosca. Cioè, per darti il dono della divina volontà, con tutti i diritti che questo comporta, e che gli ha spiegato, la mia volontà regnante, la leva al di sopra di tutto, sa amare tutte le cose, e viene costituita, possessore, la regina di tutto il creato. Per arrivare a questo, tu devi imparare, a riconoscere ovunque, nel creato, la presenza di Dio, non solo come un atto tuo intellettuale, ti guardi in giro e dici, uh che bello il creato, qui riflette, no, 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 questo deve diventare preghiera. I giri non sono, come dire, una elucubrazione intellettuale, botanica o zoologica, no, 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 il giro è un dialogo d'amore, fatto con il Signore. Cioè, chi ha difficoltà su questo qui, usi spesso il pio pellegrinaggio dell'anima nella divina volontà, che ti insegna, d'accordo, a quanto più questa operazione si moltiplica, quanto più si dilata in noi il regno della divina volontà e quanto più il nostro Signore gradualmente, vedendo scorrere il nostro ti amo, il nostro personale, attenzione, che Dio vuole sentire, ti amo tuo, ti amo tuo. Sicuramente avremo modo di parlare di questo qui. Io rimando alle splendide catechesi del mio caro amico Frappio, una settimana bellissima, un pochino di tempo fa, dove spiegando questa cosa, cioè, il giro che faccio nella creazione io, cioè, non basta che mi metti a leggere più pellegrinaggio nella divina volontà, perché quella è una parte già pronta, cioè, nel senso, quella ti aiuta, d'accordo, quella ti dà un input, ti dà, perché noi dobbiamo anche un attimo capire, che devo fare, d'accordo, e te lo leggi, ma poi, tu lo devi personalizzare, cioè, Dio ti ascolta a te, vede quello che fai tu, non è che è diventato, quando tu vai in giro, non è che Dio sta col fucile spianato, controlla quello che facciamo, ma Dio lo vede quello che fai, cioè, se tu in quel momento fai un tuo giro, ci metti il, come si dice, ci metto il mio ti amo, il mio ti amo, quello mio, quello di Don Leonardo Maria Pompei, non lo mette nessun altro al posto mio, non lo mette io, non lo mette, cioè, se non lo faccio io, con la mia personalità, con il mio modo di essere, con il mio modo di esprimermi, Dio vuole sentire quello, capite? Cioè, il nostro singolo modo di pregare, questo diceva in quella bellissima catechesi fra Pio, noi non dobbiamo fare le scimmie del prossimo, capito? In niente, cioè, devo pregare, ho visto pregare Don Francesco, ah, devo pregare come lui, perché lo fa una grande preghiera, che bello mistico è, sta tutto assorto, allora, tu devi mettere i venti, sta in ginocchio con una gamba sola, tu devi mettere pure io in ginocchio con una gamba sola, sta con l'orecchia, sventola, va a venire pure io, tu devi pregare come sei tu, perché Dio vuole sentire preghiera tua, come la fai tu? Il giro lo devi fare tu, perché il giro che faccio io, certamente sarà analogicamente simile, ma è il mio giro, cioè, questa interpersonalità, è fondamentale, tu, che mi stai ascoltando, abbiamo quasi finito, ricordali, tu sei una persona, quello che sei tu, non è nessun altro, d'accordo? E quello che Dio, fa con te, quello che Dio vuole sentire da te, è quello che devi dargli tu, volontariamente e liberamente, se non glielo vuoi dare, questo Dio sta sempre zitto, che ti dice, qualcuno ha mai detto qualcosa, gli ha fatto una delle fai, perché sta sempre buono, sta sempre zitto, però certamente sono tante quante chance perdute, perdute, cioè, tu privi Dio, del tuo ti amo, che è diverso da quello dei casi, tutti quanti gli altri miliardi di persone che ci stanno, non solo, il tuo ti amo, come sappiamo, nella divina volontà, può coprire il ti amo di tutti, ma un ti amo fatto per tutti, non è la stessa cosa, che se tutti avessero dato il ti amo, non voglio fare un giro di parole, basti questo per l'interpersonalità, che dobbiamo sempre ricordare, come tratto essenziale, non solo della divina volontà, ma anche come tratto essenziale, che Dio vuole, nei suoi rapporti, con le creature. Appuntamento, per chi lo desidera, a martedì prossimo, io vi do il mio saluto, con la mia benedizione, Fiat, Ave Maria. Grazie.